La nuova hit del maestro Silvano Plafor dall'avvio a Fantastici. Come si chiama maestro questa hit? Balduziente. Abbastanza. Fantastici la rubrica con cui Marco e Pippo vanno a conoscere i propri fan questa sera rappresentati da Nonno Eligio che salutiamo. Ciao a te, anche sto insieme io. Sì, scusa, tra l'altro devo dirti che per doveri contrattuali devo annunciare l'uscita del disco del maestro Silvano Plafor che è proprio uscito ieri. Come sta andando maestro? Maestro, sta andando benissimo, 4.000 copie vendute. In un giorno? Sì, sì, sì. Ma non sono mica poche 4.000 in un giorno? No, 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 4.000 copie. No, 4.000, cioè una io, un mio cugino, due miei genitori, quattro mie copie. Quattro. Non ti fai a dire, tu ci sei menino, ma non ti fai a buscare. No, fermo, allora nonno, siccome siamo in televisione io ti pregherei di avere un linguaggio consono alla serata e come ti ho già detto fuori onda ti pregherei di non tenere il linguaggio che hai usato nelle altre serate. Ti prometto che non dico più parolacce ma sono allenato tutto un po' a non dirle. Mi prometti che sei cambiato. Mi ha cambiato il ballante prima di venire io. Grazie, 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 grazie. Questo tuffo negli anni 90. Bene, noi invece torniamo a fare le domande a nonno Eligio per conoscerti un po' meglio. Che lavori hai fatto nella tua vita? Sì, tutto. Operaio, operaio specializzato, bideo, giardiniere, infermiera, giardiniere. E io ho lavorato nella corte costruzionale a Roma, ho fatto l'avvocato, ho fatto la ragazza alla pari in Inghilterra. Il becchino, il fioraio, il giardiniere di Attaro, ho fatto il falso di valido. E il parcheggiatore abusivo di colore, però dura poco, sono più se che ricordi che non so buon parcheggiare la macchina. Anche questa è la corte. A tanto a proposito, a tanto a proposito farei suona di questa. Cos'è questa? Sensori di parcheggio. Ma per piacere, ma per me. Sì, ma per me adesso c'è un'altra cosa. Fermi qua. Torniamo alle domande per conoscere Nonno Eligio. Una domanda forse un po' macabra, ma insomma, data la tua veneranda età, la domanda ci sta. Tu vorresti essere cremato? Sì, però dopo morto. Sì, beh, questo era evidente, Nonno. Sì, sì, sì. E mi generi che vorrei piacere che te ci appassi e ti spargisci sul bocciodro. Beh, non so se si può fare, Nonno. Segui le mie istruzioni. Ora, metà del polvere ti butti sul capo la boccia. Metà del spogliatoio, vi sei l'armanieto del lino. E' il mio acerimo nemico se sfidiamo sempre la boccia e sentiamo. E' un po' di polvere ti metti sulle bocce dentro l'armanietto. Perché? Così che stavo sulle bai e accada morto. Dai, Nonno, per piacere. Per piacere. Torniamo invece alle domande con uno sguardo sul presente. L'ultima domanda che ti faccio è questa. Pensi che alla tua età sia ancora possibile trovare una donna? Gratis, penso che sia impossibile. No, no, basta, basta. Oh le le, oh la la. No, 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 fantastici, finisce qua. La puntata si chiude immediatamente. Grazie a Nonno, grazie a Maestro, si fanno prafford. Arrivederci. Oh le le, oh la la. Arrivederci.